Buonasera a tutti, vi ringrazio di partecipare a questa serata che diciamo in un certo senso è il seguito di quella che ci ha preceduto il 31 luglio dove come relatori c'erano la direzione ASLE del distritto. Io sono Cristina Bettini, sono del comitato Salviamo l'ospedale di Pavullo, forse molti di voi sicuramente mi conoscono perché sono originaria di questi luoghi, io qui ho vissuto, ho scelto di investire anche per le mie figlie, questo inciso per dire che conosco quelle che sono le problematiche quotidiane di una popolazione che vive su questi territori, solamente alzarsi la mattina, andare a lavorare, avere bisogno di un servizio sanitario, doversi spostare, fare chilometri, chilometri e chilometri. Come si suol dire so cosa vuol dire spalare e pestare la neve. Questa sera ho avuto il piacere di avere qui con noi una rappresentanza di SNAMI che è uno dei due sindacati principali della medicina generale in Italia. Qui a fianco a me ho Roberto Pieralli che è medico, sono tutti e quattro medici di emergenza, quindi medici del 118, Roberto Pieralli che è il presidente regionale Emilia Romagna, qui a fianco a me ho Filippo Sanna, addetto stampa di SNAMI, la signora Appellati Daniela, referente regionale SNAMI per emergenza territoriale ed infine Anna Esquilini, referente provinciale Bologna per l'emergenza territoriale. Il comitato è operativo sul tema sanità da anni, da oltre 20 anni, dal momento in cui il nostro ospedale di riferimento, quello di Pavullo, ha iniziato a subire dei tagli, tagli di specialisti che hanno portato inevitabilmente negli anni alla chiusura di punti fondamentali allo smantellamento di reparti. Questo è sotto l'occhio di tutti quanti. Non è stata solo una battaglia del punto nascita, quella che forse più avrete sentito parlare, perché intorno a questo punto nascita poi ruotano una serie di professionisti dai ginecologi, dai pediatri e soprattutto anche da anestesisti, figure fondamentali in ogni reparto. Nell'occasione della chiusura del punto nascita, proprio la sottoscritta mise in evidenza nell'anno 2017 che i nostri comprensori, i tre comuni, Piovepellago, Fiumalbo e Rio Lunato, avevano un servizio di emergenza urgenza inadeguato. Vale a dire che c'è una legge regionale del 2009 che indicava la presenza sul territorio di mezzi di servizio avanzato, ora magari potrò fare qualche errore nelle stime anche perché sono un pochino provate emotivamente, ma qui chiedo appunto a loro di correggermi qualora arrivi a sbagliarmi. Allora, praticamente era prevista nell'emergenza la presenza di un infermiere del 118, quindi una figura specialistica, specialista che è professionale, atta appunto ad intervenire nelle emergenze. Più di una volta sono stata costretta a ricorrere al difensore civico regionale negli anni per ottenere solamente promesse e promesse rimandate nel tempo. Finalmente questo infermiere è arrivato a C12, gli inviti solleciti da parte del comitato con regione, ASLE e distretto sono continuati. Ho monitorato le tempistiche anche di intervento dei mezzi riscontrando e sottolineando delle inadeguatezze quando i mezzi arrivavano perché si parla di emergenza urgenza non sono cose trascurabili, abbiamo bisogno di intervenire in tempi ceneri. Finalmente, la notizia che penso che era presente anche l'altra sera ha capito, questo infermiere è arrivato H24 solamente nell'aprile scorso, quindi abbiamo dovuto aspettare ben 15 anni. Siamo cittadini uguali a quelli di Modena, di Sassuolo, non è stata certamente una concessione, ma era qualcosa che ci spettava. Questa è la prima premessa. Io credo fermamente che la politica in tutto questo centri, i nostri rappresentanti istituzionali hanno il dovere verso noi di portare avanti quelle che sono le istanze. Mi dispiace constatare che nonostante l'invito del comitato, questa sera siano assenti i tre sindaci e il direttore dell'ASLE o comunque qualcuno che le rappresenti, perché erano stati invitati via PEC e quindi erano tutti informati. Era l'occasione per fare un dibattito costruttivo anche con questi operatori dell'emergenza urgenza, tutti i rappresentanti del sindacato che possono avere una posizione uguale o discortante, adesso vedremo nel prodotto. Il tema di questa sera è l'emergenza urgenza. Un'emergenza urgenza è una riorganizzazione che è stata ribattezzata nel luglio scorso con una delibera di giunta regionale che delegava all'ASLE e alle CTSS, conferenze territoriali socio-sanitarie, che sono delle riunioni, la CTSS è una sede nella quale 47 sindaci della provincia di Modena insieme all'ASLE si mettono a tavolino e vanno a organizzare quella che è la sanità all'interno della loro provincia. È vero, come disse il sindaco di Pieve Pelago, che è un voto ponderato, i piccoli comuni hanno una rilevanza inferiore rispetto a quelli delle grandi città, ma è vero anche che se così fosse si poteva votare contro ad una riorganizzazione che oggettivamente ci ha tagliato. Ci ha tagliato Medici e questo è un dato di fatto perché ci è stato illustrato dalla stessa ASLE lo scorso mondo. Questo è una cosa che tenevo a precisare perché sento, io credo che l'Unione in faccia alla forza, io credo che bisogna anche conoscere la materia dal punto di vista tecnico. L'emergenza e urgenza, la riorganizzazione ha fatto sì che oggi dobbiamo avere due canali differenti per la gestione dell'emergenza e urgenza, ovvero le urgenze di media e bassa intensità devono essere gestite dai cosiddetti CAO, chi lavora nei CAO sono dei medici di medicina generale o guardia di continuità assistenziale. Dopo chiederei anche ai più presenti di spiegarci un attimino anche qual è la funzione del ruolo unico perché dal prossimo anno, se non vado errando, i medici di medicina generale che hanno già in queste zone comunque una zona vasta, in pervia, che devono sbrigarsi con i loro pazienti dovranno poi magari anche poter assumere il ruolo di guardia di continuità assistenziale con tutti i disagi che ne arriveranno. Sappiamo anche che all'interno dei CAO generalmente le guardie di continuità assistenziale sono, cioè coloro che riversano questo ruolo sono dei medici appena usciti in certa specializzazione, dei neolaureati, ai quali poi generalmente o in buona parte hanno un contratto a tempo limitato, 6-12 mesi. Quindi al di là della problematica a riferire dei medici a livello nazionale è chiaro anche che non c'è attrattività per i nuovi medici a venire in queste zone. Ho avuto modo di parlare con i medici anche che hanno fatto la guardia di continuità qui nella casa di comunità dell'Alto Frignano. Mi piace precisare che quella è la casa di comunità dell'Alto Frignano e non di Pieve Pelago. Alto Frignano, Fiumalvo, Dolunato e Fiumalvo. I medici che arriveranno e dovranno fare la guardia di continuità visto che non saranno più titolati poi ad uscire nelle emergenze e urgenze perché giuridicamente, come ci hanno già accennato anche la direzione asile, non erano inquarrati, praticamente perché c'è un'incompatibilità giusto ad esercitare il ruolo di medico di medicina generale? Non si poteva fare neanche adesso. Non si poteva fare, però grazie a quel modello noi costicamente montanari dicevamo meglio che nulla almeno avevamo un medico che ci accompagnasse fino a Baggiovara, fino a Sassuolo e qua. Questo problema io ho rivolto questa serata al comprensorio dell'Alto Frignano, ma credo se onestamente sta anche a Pavullo, a Lama o altrove dovrebbe condividere le nostre stesse preoccupazioni perché nel momento in cui qui in un codice rosso il paziente dovrà partire su un mezzo accompagnato solo dagli infermieri del 118, dai volontari e dover fare un rendezvous, un incontro con l'unica auto medica che parte da Pavullo, credo che il problema poi si stenda anche ad altri cittadini del Frignano, perché se andiamo a raccattare in gergo brutto un paziente in doccia ai limiti, ai confini con la Toscana e succede un'altra criticità a Pavullo, a Benedello, io non so chi possa intervenire. Abbiamo è vero l'elisoccorso, ma sappiamo tutti che l'elisoccorso è un mezzo che ha degli impedimenti, in caso di nebbia, di maltempo, abbiamo un unico elisoccorso che di notte vola, che parte da Bologna, al di là di quello di Pavullo che ha il vericello, ma non fa voli oltre. Quindi la sanità è un bene, è un diritto, è un bene comune e io a questo punto vorrei lasciare la parola agli ospiti, ai principali referenti di questa serata che sono venuti comunque da lontano per i dubbi su queste cose in modo molto più dettagliato. Grazie. Facciamo il cambio del... Allora, grazie dell'invito innanzitutto, siamo venuti volentieri questa sera e portiamo anche i saluti dei colleghi di Modena che purtroppo per periodo, ferie, eccetera, eccetera, i referenti all'emergenza in questo momento non poteva essere presente, ma direi che abbiamo vicariato portando la referente regionale, portando... Allora, siamo tutti e quattro medici dell'emergenza territoriale, siamo tutti e quattro medici 118, conosciamo e abbiamo ben chiara la situazione sia della provincia di Modena come delle altre province della regione Emilia-Romagna, e non siamo stupiti dell'assenza degli interlocutori. Non siamo minimamente stupiti, perché l'ultima volta che l'interlocutore è stato presente, vi invito se volete farvi due risate a Correggio, era? Esatto, il direttore generale a un certo punto si è lanciato sulla sedia urlando Pieralli, è andata così, insomma, basta, perché ovviamente quando poi tu sai per filo e per segno quali sono i punti e quali sono le problematiche, e dici cosa è successo e lo rendi noto alla pubblica piazza, poi è difficile gestire un contraddittorio con noi, quindi capisco che poi le persone non vogliano, come dire, gestire un palco difficile, mettiamola così. Però dal nostro punto di vista, noi siamo medici, non abbiamo nessun tipo di interesse se non quello di poter lavorare noi bene per il servizio che diamo alla popolazione. Questo non è un lavoro da paperoni, questo non è un lavoro che, dici, possa avere chissà quali grani, non siamo i chirurghi plastici di Nippentac, insomma, abbiamo scelto, ci siamo scelti tutti e quattro qua è un lavoro che vuol dire stare fuori la notte, vuol dire andare giù per i fossi, vuol dire prendere la neve, vuol dire prendere il caldo, cioè è un lavoro reale, come quello che molte delle persone che vivono in questi luoghi fanno nella loro vita privata. Quindi non è, diciamo, un lavoro d'elite e questo credo che sia un punto importante perché è uno dei fattori che poi determina lo scenario che vediamo oggi. Allora, non so neanche da dove partire perché c'è talmente tanta roba che cerchiamo di fare un po' di sintesi. Ditemi voi se volete che partiamo dalla questione 118, come dovrebbe essere e invece come è stato gestito, o alla questione medicina generale e a tutto il castrone e diciamo il mescolone che è stato fatto, in particolare qua nell'altro Frignano, perché noi sono una decina d'anni che scriviamo lettere su lettere per le problematiche di quest'area specifica, di come è stata gestita. Ditemi voi, andiamo a pool, cosa preferite? Va bene, allora partiamo dal 118, va bene? Partiamo dal 118, voi magari Daniela prendi il microfono così facciamo un po' io e te. Allora, il 118 è una rete che va oltre la singola azienda sanitaria. Non c'entra Modena, non c'entra Bologna, non c'entra Reggio Emilia. Il 118 va tra aziende ospedaliere e aziende sanitarie diverse, anche all'interno della stessa provincia, pensate voi avete Policlinico piuttosto che Baggio Vara, no? Va oltre, è trasversale, perché il 118 è una parte territoriale e va anche tra le regioni, per cui non è una questione di casa mia, casa tua. La rete 118 è una rete di soccorso che deve garantire nel territorio, di chiunque esso sia, perché le aree di confine ci sono, una risposta che deve avere delle caratteristiche che il legislatore ha inserito nel DPR che ha istituito il 118, quindi ci sono delle norme e dei regolamenti che le stabiliscono. Così come il famoso decreto 70, quello che definisce gli standard, definisce quanti mezzi ci devono essere in base alla popolazione, in base ai chilometri quadri dei territori. E c'è ampia letteratura, che siamo disponibili tranquillamente a darvi, perché c'è addirittura la rivista della Genas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, che non più tardi nel 2015 scriveva bene nelle regioni in piano di rientro, quindi quelle che dovevano tirar la cinghia come doveva essere ridisegnato il sistema. Quindi non ci inventiamo niente, non parliamo di opinioni, ma parliamo di documenti che non abbiamo scritto noi evidentemente. E quindi si dice che la rete di soccorso fondamentalmente cosa deve fare? Deve rispondere sia al singolo cittadino che si fa male o che sta male, quindi può essere un trauma o un malore, piuttosto che a più cittadini che insieme si fanno male. Pensate a un frontale che avviene qua su una delle strade, con due automobili, può avere un ferito come ne può avere dieci, se ci sono cinque persone sui due veicoli che si scontrano. Quindi voi capite che la rete deve avere un certo livello di elasticità, un po' come i calzini, che hai i numeri dal 43 al 45, dal 42 al 38, cioè se vai troppo in su o troppi giù poi lo strappi, oppure ovviamente se è troppo largo, è un problema lo stesso. Cosa succede? Quindi c'è un livello di elasticità, che è la prima cosa importante, e poi c'è un livello che è l'altro, che è la ridondanza. Cioè il legislatore inserisce nel decreto e dice ci vuole le regioni, quindi non le aziende sanitarie, le regioni applicano e valutano sul territorio regionale la presenza di un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti per non più di 350 km quadri di territorio. Un po' come la macchina, no? Cinque anni 150.000 km, cioè una roba così. Al netto dei correttivi orogeografici, ovviamente. Qual è questo parametro? Perché è un parametro che voi lo prendete, poi prendete Google Maps, ok? E c'è chiunque, senza bisogno di essere laureati in ingegneria o in qualunque altra materia, è in grado di farlo. E ti dice di fare questo calcolo su popolazione regionale, non sulla popolazione della città o della provincia, su popolazione regionale. Tu prendi la regione e dici io quanti abitanti ho? 4 milioni e mezzo, dividi 60.000, vedi quanti te ne vengono, dividi per 350 km quadri, quindi prendi il territorio, dividi 350 e vedi quanto è e poi decidi qual è il numero. E poi queste macchinine di soccorso avanzato tu le inserisci nei punti strategici tali da garantire tempi di intervento decorosi, questo è il primo punto e il secondo punto è, attenzione, se quel mezzo di soccorso è impegnato e c'è una seconda emergenza, non è che il primo mezzo avanzato può partire da canicca T, deve avere una distanza e una tempistica di intervento ragionevole, ok? Tanto è vero che la Gena scrive, scrive nelle sue relazioni, non vanno mai fatti calcoli e pianificazioni dei mezzi di soccorso basandoci sul numero di interventi che si fanno. Perché ci sono zone come questa dove magari il numero di interventi, grazie a Dio, è limitato perché la popolazione è meno densa, ma tu quei cittadini siccome pagano l'IRPF come gli altri, li devi garantire come gli altri. Poi è chiaro che qui è più difficile che in pianura, però li devi garantire. E qual è il nocciolo della questione? Il nocciolo della questione è non solo la questione della parametrazione, perché nella delibera di recepimento, questi lo andate a scaricare, leggete, c'è scritto che la Regione non ritiene, quando hanno recepito il decreto di ossetà, non richiede di applicare rigidamente i parametri del decreto di ossetà. E questo è il primo punto. Il secondo punto è cosa intendiamo per mezzo di soccorso avanzato, perché il nocciolo del problema è tutto qua. Che cosa vuol dire mezzo di soccorso avanzato? Allora qui ci sono delle visioni che sono totalmente discordanti, nel senso che la visione della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, della società italiana Sistema 118, dei qui presenti medici d'emergenza, di cui sottoscritto è 22 anni che è sui mezzi, la dottoressa sono almeno 12 e lei 15, quindi non siamo gli ultimi cretini, uno dei motivi per cui questi non vengono qui a cercare di cantarci il sesso degli angeli. Mezzo di soccorso avanzato che cos'è? Noi diciamo che è quello che prevede un'equip completa dell'autista soccorritore, del medico e dell'infermiere. Ok? Perché? Perché per fare un soccorso di livello advanced tu non hai, non siamo mica lo sceriffo texano col fucile che gira da solo con la macchina. Tu se su un paziente critico, se non hai un'equip completa, non fai, scusate il francesismo, non fai un cazzo. Ok? Hai bisogno su un paziente critico di avere più operatori sanitari competenti, organizzati e formati. Il resto sono scemenze. Perché tutti noi in un caso limite cerchiamo di far da soli, ma quello che si fa da soli non è, non può essere l'ordinaria organizzazione del sistema. Allora che cosa succede? Succede che qui c'è lo scontro con la regione Emilia Romagna, perché qui noi dobbiamo essere cristallini. Lo scontro tra noi e la regione Emilia Romagna, per il quale abbiamo litigato furiosamente, continuiamo a litigare e continuiamo a litigare, è l'interpretazione di che cos'è il mezzo di soccorso avanzato. Perché per la regione Emilia Romagna c'è il mezzo di soccorso avanzato a leadership infermieristica e il mezzo di soccorso avanzato a leadership medica. Cosicché nelle risposte e le interrogazioni che fa la regione viene scritto fuori che noi a regione Emilia Romagna, siccome ci mettono dentro anche le ambulanze con l'infermiere, noi siamo dei fighi. Noi di mezzi avanzati non ne abbiamo uno a 60 mila, ne abbiamo il doppio. Uno a 29 mila e rotti veniva in un documento addirittura. Quindi il doppio che tu dici, ma scusate ma la Corte dei Conti non dice niente? Che in Emilia Romagna stiamo male il doppio che tutti gli altri, che abbiamo il doppio dei mezzi di soccorso avanzato? Perché questo è il tema. Allora per noi ci deve essere l'equip e l'equip può essere costituita o facendo la vecchia ambulanza medicalizzata come aveva Pavullo un tempo, autista, medico, infermiere, magari un autista soccorritore volontario di supporto, oppure utilizzando l'altra strategia che secondo noi è più furba ed è una delle strategie attuate in Emilia Romagna che è quella delle automediche. Perché? Che cosa fanno le automediche? Le automediche fanno sì che ci sia un'ambulanza che può avere il soccorritore o l'infermiere, quindi due operatori, e sul caso più critico o ipoteticamente più critico invia medico-infermiere in più. Quindi tu che cosa fai? Su quel paziente vai a costruire un'equip che addirittura nel migliore dei casi, come dicevano le delibere originali, aveva addirittura un medico e due infermieri perché i pazienti traumatizzati più critici di quello hanno bisogno. Guarda caso nell'elicottero. Due infermieri? Ci abbiamo due infermieri e un dottore. Tu guarda, la casualità, no? Ora, qual è il punto? Che se questi presupposti di base, che sono di buon senso, di logica, e che noi clinici, diciamo, serve, sia fatto in questo modo, per garantire il meglio del trattamento, se questo viene meno, poi il resto è circo. Il resto è circo. Perché ci troviamo ad avere situazioni nelle quali non riusciamo a prevedere tutti gli scenari possibili. Facciamo l'esempio che è successo qui. Qui il medico che usciva a medicalizzare le emergenze era un medico o di continuità assistenziale o di medicina generale e la stessa cosa era fanano, eccetera, eccetera. Quindi si creano dei purpurri che poi hanno dei problemi di forme contrattuali, di compatibilità legali, di compatibilità contrattuali con tutto quello che ne viene. Poi, qui, l'ulteriore circo. L'altra favola che si racconta, mancano i medici. Allora, mancano i medici, bisogna andare a vedere chi li doveva formare e chi li deve formare. I medici, secondo l'articolo 66, direi, dell'accordo collettivo nazionale vigente, che è lo stesso dal decreto del Presidente della Repubblica del 2000, cioè sempre quello, dice che le aziende USL ogni anno determinano i fabbisogni entro giugno e finiscono, organizzano e fanno i corsi entro il dicembre di ogni anno. Io invito qualcuno di voi che ne abbia voglia di andare a vedere quanti corsi ha fatto l'azienda USL di Modena negli ultimi 15 anni. Voi lo andate a vedere, esatto, e poi mi dite, mi dite, e non ci sono i dottori, chi li doveva fare i corsi, Paperino? Quindi questo è uno dei problemi che ci sono. Oggi abbiamo un corso in partenza. 300 gli iscritti. 300 gli iscritti, 300 gli iscritti, ma siccome la regione, questa regione, e non lo dico io, l'ha detto il direttore generale dell'azienda di Reggio Milo in quel video che mi invito di andare a vedere, e dice, eh ma questa regione vuole controllarci tutti, la competenza di organizzare i corsi è della ASL, però la regione deve mettere mani dappertutto e vuole il controllo di sta roba qua. Che, voglio dire, puoi anche averlo il controllo, per carità di Dio, ma poi se i corsi non vengono fuori come devono essere fatti e il contingente di personale formato non è quello, bisogna che qualcuno vada a bussare in Viale Aldomoro e vada a prendere per l'orecchio il responsabile e gli dico, scusi, perché non abbiamo i dottori noi su? Perché cosa è successo? Che nonostante noi si dica i corsi vanno fatti azienda per azienda come il regolamento stabilisce, no, qui facciamo i corsi regionali a tre province alla volta. Il risultato qual è? Che addirittura noi avevamo un verbale di prefettura, di un incontro, perché ci siamo arrabbiati ovviamente nei vari scontri con l'azienda ASL, in prefettura è venuto fuori che il fabbisogno di questa azienda, più o meno, era di 24 medici da formare, cioè 24 da formare in realtà sono 24 da lavorare, ma non puoi formare migliaia perché è un corso impegnativo quello per abilitare le persone all'emergenza, cioè impegna risorse, tempo, eccetera. Bene, erano almeno 24 solo per Modena, ma la regione ha pubblicato il bando con 25 per tre province, quindi 7 e mezzo per provincia, no? A fronte di circa 160, 165 per l'area a Bologna, Modena, Ferrara e un'altra... 87, 88 province, sì, sono 300 in tutta la regione, cioè 300 medici hanno partecipato al bando per diventare medici... Hanno fatto domanda per formarsi. Per formarsi, 300 medici. Quindi i medici che non ci sono, mi dispiace, sono balle, sono balle perché ci vogliono due cose, bisogna dargli il titolo abilitante a fare questo lavoro e poi magari bisogna mettere a posto i contratti di lavoro, perché il contratto di lavoro più o meno dove l'abbiamo messo a posto e dove le cose funzionano, di cooperative non ce n'è, di automediche chiuse non ce ne sono e di problemi non ne abbiamo, ok? Anzi, addirittura, riusciamo con i medici 118 a dare una mano alle difficoltà del prodotto soccorso. Poi, ovviamente, e siamo andati anche a dare una mano ad altre aziende sanitarie, perché quando le altre aziende sanitarie hanno avuto difficoltà noi che avevamo i dottori, perché abbiamo fatto un lavoro un po' normale, di logica, poi li abbiamo potuti anche prestare, tra virgolette, all'azienda limitrofa. Però il tema è questo, se non li formo e non metto le condizioni contrattuali, organizzative, che può voler dire per un'area come questa, noi prima venivamo su, noi lavoriamo tutti in appennino, no, tranne lui. No, io lavoro nella bassa. Lui lavora nella bassa. Io nella bassa. Ma tu hai lavorato anche in montagna. Sì, nella Langhirano. Però il tema è, arrivare oggettivamente è un problema e, signori, si pagano gli effetti, questo su tutti i settori, non sul 118, si pagano gli effetti della logica della selezione nazionale medicina, non del numero chiuso, della selezione nazionale, perché nel momento in cui io da un territorio come questo prendo un ragazzo che fa la selezione nazionale per medicina, vince il posto a medicina, quindi entra nella facoltà e la mandano a fare la facoltà a Terni o Messina o quello che è, e poi dopo che ha fatto i sei anni lì, dopo magari deve fare la specializzazione e va a Trento, poi bisogna che ci abbia della voglia, in un'età in cui fai figli e famiglia puoi tornare nel posto disagiato, tra virgolette, perché comunque questo non è agiato come viabilità, come raggiungibilità, come servizi, poi, e quindi questo è l'effetto collaterale di quel fenomeno. Comunque detto questo, i problemi sono questi due sostanzialmente, il primo che i dottori bisogna formarli e in questo corso qua, in questo corso qua, gente di Modena ha fatto domanda, ma per tutti i problemi di inquadramento contrattuale, punteggi eccetera, ovviamente se metti insieme tre province di Modena, mi sembra che in quelli ammessi, siano riusciti a far ampliare un po' i posti a 35 invece che 25, quindi siano riusciti a ottenere un leggero aumento, ma quelli di Modena che mi risulta siano entrati sono in tre. Allora, qui bisogna prendere direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, regione, quello che è, scusate, questa è la normativa, qui i dottori servono e chi li deve formare non è più popluto paperino, siete voi, e quindi o li costringete ad adempiere, perché noi vi diamo una mano in tutto quello che possiamo, cioè questo è il tema, perché poi l'altro tema è che sempre per i medici più il servizio diventa difficoltoso, più il medico 118 deve fare il rendezvous correndo per le montagne in mezzo alla neve scapicollandosi come un matto, rischiando la pelle, perché si rischia la pelle a correre per strada, soprattutto quando è inverno e c'è la neve e c'è il ghiaccio, più io devo correre, più i medici dicono, ma chi me lo fa fare di rischiare la pelle, rischiare le denunce, arrivare tardi, o gestire delle situazioni che si sono già degenerate. Perché l'elicottero che viene passato come panacea di tutti i magli, non è la panacea di un accidente, di niente. L'elicottero è un mezzo fondamentale, ma lo stesso decreto 70 dice che è un mezzo integrativo e non sostitutivo della risposta ordinaria su gomma. Perché un giorno che c'è l'alluvione, un giorno che c'è il meteo brutto, un giorno che c'è la scarsa visibilità, quello non vola. E allora cosa facciamo? Tiriamo a testo croce? C'è o non c'è? Io devo avere un servizio che sia una maglia ridondata. Anche perché, voglio dire, sto rendezvous, ma Pavullo cosa fa? Non fa un cazzo tutto il giorno. Cioè il giorno che l'automedica di Pavullo e via l'elicottero non vola, cosa facciamo? Cioè dove fai? C'è Maranello, perché poi le più vicine mi sembra che siano Maranello e Vignola. Allora, questa roba qua non si può sentire, che è lo stesso problema che voi nella provincia di Modena avete anche sulla pianura, non siete in solitaria qua in montagna, c'è anche su Carpi il problema, magari prima, per cui. Qui però bisogna che la popolazione cominci a capire questo meccanismo, cominci a pretendere anche che queste norme, che sono tutte scritte, non le abbiamo scritte noi, vengano rispettate. Ok? Mi dica, mi dica, sì, assolutamente. Se so rispondere? Ma alla luce di questi fatti, noi che non sapevamo niente, non si poteva fare questa prima che venissero quelli della regione sanitaria. Ma bisognerebbe farlo insieme. Noi stasera abbiamo provato a, come ho detto inizialmente, l'USL ha organizzato e ha annunciato alla pubblicazione, cioè anche noi come comitato, che comunque sia, abbiamo sempre cercato, dopo se lo volete vedere, anche a marzo, abbiamo fatto un accesso agli atti e una richiesta proprio per avere anche un punto di primo intervento qui in Alto Trignano, quel punto di primo intervento che poi hanno chiuso, scusate, qui a Pieve Pelo, che poi hanno chiuso a Panano, perché secondo me la contraddizione, poi, correggimi, è che siccome realmente bisognerebbe valutare e considerare le aree distinte, un'area con una condizione erogeografica così difficile, credo che si dovesse dare prevalenza ad intervenire sull'emergenza-urgenza, cioè sulle criticità alte anziché su una media e bassa intensità. Ma guardate, è assolutamente così, cioè, tra l'altro mi fa ridere, perché l'ho cercato prima di venire qua, perché è un reel che ho letto, ho visto su Instagram, sui social media stamattina, dove il nuovo candidato De Pascale parlava delle scelte in Romagna per la parte di Nova Feltria, sostanzialmente, quindi della parte appenninica più difficile della Romagna, dove è stata fatta la scelta di mantenere il punto di primo intervento, poi il cao che volevano aprire, eh, gliel'hanno affiancato, ok? Allora però bisogna avere una linea che sia omogenea da tutte le parti, no? Perché lui faceva un discorso in questo video, poi, ripeto, lo ritrovo perché l'ho visto proprio questa mattina ed era un video fatto bene, diceva una cosa sensata, che è quello che stiamo dicendo qui. Cioè, nel punto più distante dagli ospedali centrali, tu hai bisogno di uno che sappia rispondere all'emergenza, stabilizzare il malato e poi trasportarlo nell'ospedale appropriato. Non hai bisogno della risposta alla puntura di zecca, perché nella risposta all'emergenza ci sta anche la risposta alla scemenza, perché nel grande ci sta il piccolo. Ma non è viceversa, quindi viceversa non sta, ok? La Guardia Medica non può e non è formata e non è istituzionalmente neanche inquadrata per gestire determinate situazioni, ok? Questo, esatto, poi, sapete, il problema è che non dobbiamo confondere gli inquadramenti... No, no. Manca quella base. Noi non dobbiamo confondere, scusa Anna? Sì, non dobbiamo confondere gli inquadramenti contrattuali con il livello formativo. Magari c'è un rianimatore che ha deciso poi di non far più un rianimatore, di fare la Guardia Medica ma ha le competenze. Però il contratto, se tu sei pagato per fare il falegname, non vai a fare l'ingegnere nucleare, ok? Col contratto da falegname, cioè questo è uno dei punti, cioè è una questione anche proprio di logica e di diritto, perché i contratti, gli inquadramenti SSN servono a definire chi fa cosa e quali titoli servono a fare che cosa, perché di fatto l'inquadramento contrattuale è semplicemente dire che funzione fai e per quella funzione che stipendio e che garanzie lavorative hai, cioè tutto qua. Perché stiamo parlando poi fondamentalmente di tutti i liberi professionisti in convenzione. Detto questo, poi lascio la parola ai colleghi, l'ultimo punto grosso è appunto dove è cascato l'asino, cioè la questione del ruolo unico che mi chiedeva Maria Cristina di spiegare. Il ruolo unico che cos'è? No perché è una roba che viene il disgusto solo a pensarlo. Allora, il ruolo unico è l'idea di fondere i medici di guardia medica con i medici di famiglia. In un tutti fanno tutto. Tutti fanno tutto tranne quelli che però ce l'hanno già l'incarico da medico di famiglia che non gli toccherà fare la guardia medica. Quindi cosa succede? Che ovviamente i nuovi medici di famiglia dall'anno prossimo in teoria saranno costretti ad avere un bilancio tra pazienti in carico e ore che fanno. Più pazienti hai, meno ore di attività fai. Meno pazienti hai, più ti tocca anche di lavorare di notte nei festivi eccetera eccetera. Come attività di guardia medica. Come attività di guardia medica o anche in Emilia Romagna con questa genialata dei cao. Ora, se prima facevano già fatica a trovare medici di famiglia, dall'anno prossimo io penso che tutti i nostri iscritti al nostro sindacato hanno detto, devo andare a fare. Cioè io volevo fare il medico di famiglia, magari dopo che mi ero fatto anni di notti festivi, la gavetta eccetera, e cercavo un lavoro lunedì, venerdì che avesse una sua auto-organizzazione, una sua regolarità. Questo non si può più essere, saluti, baci, abbracci, tanto di lavoro ce n'è, non è che ho bisogno di andare a fare quello. Quindi se questo succederà in centro città, figuriamoci nelle periferie. Quindi questo però è un problema che è di base nazionale, non è solo un problema diciamo nostro, però il tema che ha colpito qua è che siccome qui l'organizzazione di questo 118 non era con un inquadramento regolare, perché non c'era un medico o dipendente o con la convenzione 118, ma c'era un medico di guardia medica che faceva anche, o di famiglia che faceva anche prestazioni 118, è chiaro che qua si è ulteriormente complicata la faccenda e quindi anche l'azienda sanitaria se vi ha detto che quell'organizzazione lì non andava bene, su questo hanno ragione. Su questo hanno ragione e bisogna mettere l'organizzazione che prevede la norma, cioè con un inquadramento o con un medico dipendente, se lo trovi, o con un medico convenzionato che lo devi formare però, gli devi fare il corso, gli devi dare il diploma e lo devi inquadrare correttamente nell'incarico. questi sono i passaggi molto lineari, tutto il resto, cioè la questione di cosa fa l'infermiere e cosa non fa l'infermiere, signori non è una battaglia tra professioni, facciamo due lavori diversi e facciamo due lavori diversi sinergici sul paziente critico. Dopodiché se uno, a noi medici d'emergenza, con anni e anni di esperienza, ci vuole raccontare che puoi sostituire un'intera equip con un solo operatore, coadiuvato magari dall'autista, noi vi diciamo che non è così, non è così, perché i pazienti purtroppo non sono, perché poi che cosa si fa? Si fanno dei protocolli, tra virgolette, standard, dei trattamenti standard. Allora, il trattamento standard va bene a produrre le lattine della Coca-Cola, ma quello che si fa in medicina, che è la cosa difficile ed è la cosa su cui i dottori quando fanno poi rischiano anche di sbagliare, è cercare di adattare l'evidenza scientifica di trattamento, di inquadramento di una patologia a quella persona lì, che è una persona che ha una sua età, un suo sesso, delle sue malattie, delle sue terapie in assunzione, ed è Mario Rossi o è Gina Bianchi, non è il paziente con l'anafilassi, ok? Perché qui abbiamo una regione che ci ha raccontato per anni l'integrazione, il lavoro d'equip, la roba, poi alla fine l'equip che fine fa in questo settore qua, che è il più difficile? Perché, signori, non è che noi vogliamo fare i fighi, ma è uno dei lavori più difficili, è per questo che in pochi poi lo vogliono fare, perché purtroppo noi siamo i generalisti dell'acuto, noi dobbiamo vedere dal parto precipitoso per la strada al centenario con qualunque traumatismo o qualunque malattia acuta, quindi noi non siamo specialisti di niente, ma dobbiamo saper cavare le pesche un po' dappertutto, poi per carità le cose di filo le dovrà fare il cardiologo per la parte cardiologica, l'anestesista, il neurologo, ma portarglielo inquadrato, stabilizzato, vivo nelle migliori condizioni possibili, non è mica una roba così semplice, e da medico vi dico che come medici sono più le volte che i protocolli li violiamo nell'interesse del paziente, perché a quel paziente lì quel protocollo è un vestito che non andava bene, che le volte che lo applichiamo stretto stretto, ok? Perché? Perché grazie a Dio in Europa abbiamo dei sistemi di soccorso medicalizzati. Il sistema franco tedesco, che io definirei anche franco tedesco italiano, vede medici e infermieri sui mezzi di soccorso nel resto del mondo, almeno nei paesi Stati Uniti, Canada, ha i paramedici. Non è un modello che io vorrei copiare, anche perché, a differenza di chi ne parla e non c'è mai stato, io ci sono stato, l'anno scorso ci sono anche andato, ho proprio chiesto di fare un tirocino a Los Angeles, non nell'ultimo posto di... e ho visto la differenza di trattamento e vi posso dire, loro sono bravissimi, sono tecnicamente perfetti, hanno mezzi, strumenti, attrezzature meravigliose, tipiche di quelle degli Stati Uniti, ma i malati li trattiamo meglio noi. Perché su questo... E quanti ci arrivano Roberto? E poi arrivano su ogni intervento, arrivano in sette, in sette, in sette. Su qualunque stupidazione arrivano in sette, di cui sono tre paramedici, tutti informati, vigili del fuoco, paramedici del genere. Qua invece pensano che tu mandi l'operatore, tipo il texano, lo sceriffo, col fucile, che va da solo con la cartuccia delle medicine, hai capito? E poi vediamo chi arriva. Allora, i malati arrivano in ospedale in tutti i modi, prima delle ambulanze del sistema di soccorso, arrivavano anche a dorso di mulo. È chiaro che il malato poi in ospedale ci può arrivare in qualunque modo, ma i livelli di assistenza devono essere appropriati anche rispetto alla qualità che noi cittadini ci attendiamo da un sistema del genere, che è uno, ripeto, in Emilia Romagna il primo che è nato, è stato uno dei sistemi migliori in Italia e forse anche in buona parte dell'Unione Europea. Quindi non si capisce per quale motivo dobbiamo fare dei passi indietro o dobbiamo sempre inventarci? Ci sono delle regole scritte, basta seguirle, senza inventarsi grosse questioni. Daniele? Ci sono domande intanto, sennò io continuo la riflessione. Sì, allora tipicamente la questione è questa, il servizio dovrebbe garantire in ambito urbano, e dobbiamo capire cosa si intende per urbano, c'è una delibera di giunta regionale di diversi anni fa del 2000 che definisce cos'è urbano o no, e mi sembra di ricordare dalla delibera che definisse i centri che aggregano almeno 25.000 persone o nelle vicinanze, 8 minuti. Per il codice rosso? Chiaramente diciamo la gravità massica. 20 minuti nell'extraurbano, quindi nelle altre aree. È chiaro che anche qua bisogna capire che cosa si intende, cioè a 8 minuti o a 20 minuti deve arrivare un mezzo qualunque o deve arrivare il mezzo con la capacità assistenziale adeguata alla criticità presunta. E qua è tutto uno dei punti. La domanda che ho fatto poi a un infermiere del 118 l'altra sera, ho fatto presente proprio queste tempistiche di arrivo e di rispetto e loro, se non vado errando, ricordo male, mi hanno detto che basta il primo mezzo che arriva, quindi ferma il tempo anche l'ambulanza con i soli volontari. Quella è una presenza. Sì, però, no, infatti, infatti. Guardate, però questa è stata la risposta. Guardate, non c'è, lì non è scritto, non c'è scritto niente nella normativa, penso perché nel 92 nessuno si immaginava neanche, 96 credo sia, quello dei tempi. E il DPR è quello che ha creato il sistema, credo che nessuno si immaginasse scenari diversi da quello di un arrivo con personale, diciamo, formato, perché in quegli anni avevano fatto appunto anche tutti gli accordi nazionali di lavoro per l'emergenza che si scorrendo. Però al di là di questo, cioè, è chiaro che non è possibile garantire tutto in ogni luogo, soprattutto i luoghi montani, perché poi c'è anche chi è nel bosco, chi è nel sentiero, è evidente che ci sono dei punti in cui non arriverai mai neanche con, diciamo, le migliori intenzioni della migliore organizzazione, però quello che conta è che poi nella, diciamo, normalità di un'area abitata, ok, il soccorso arrivi nel decoro. Cioè io da qui, se c'è la neve, ne parlavamo prima con i colleghi, e ho un infarto, sì sì è vero che lo devo portare a fare l'angioplastica magari a Baggiovara, ma c'è anche caso che io gli debba fare la trombolisi farmacologica per la strada, da qua. Ma no, assolutamente, è un trattamento delicatissimo, perché come tempi ci sono dei tempi e delle indicazioni cliniche che sono assolutamente cogenti. Poi dopo, è chiaro che la questione diventa di avere una rete sufficientemente organizzata e ridondata, e ripeto, non è solo la questione della singola provincia, della singola azienda, ma questo è una materia sovra-aziendale, perché questa rete deve essere gestita, perché quando vai al confine montese-Casteldaiano, nel bolognese, lì non c'è il problema forse? No, certo. Certo che c'è il problema, perché sono due aziende limitrofe, ma la popolazione non è che, cioè, ah no, io sono di qua e tu c'hai la riga, no, a te ti soccorre Modena, a me Bologna, ti soccorre quello che è più vicino e quello che è più appropriato in quel modo lì, così come con la Toscana, io non più tardi un mese fa ho fatto interventi con mezzi di soccorso della Toscana, perché? Perché uno, il medico era di qua e l'ambulanza era di là e si lavora anche se siamo di regioni diverse, non solo di aziende diverse, perché questo è l'interesse del cittadino, quindi il servizio dovrebbe avere questa filosofia, dopodiché è chiaro che territori più difficili sono più difficili, è inutile, se sei sul cucuzzo della montagna avrai bisogno del search al rescue, avrai bisogno del soccorso alpino, avrai bisogno di che, però diciamo nelle altre aree normali devi avere delle tempistiche decenti per riconoscere e trattare soprattutto le patologie tempo dipendenti. Io andrei anche a dire, perché secondo me è un paziente di gente, questa scelta differenziata secondo me è un paziente di gente, ma certo, però mi voglio entrare in questo tema perché l'altra domanda che ricevo è questa, c'è una ragione per cui la base rispetto a tutte le domande che sono limitate per la formazione di gente, che è un paziente di gente. Posso rispondere io? C'è una domanda di riserva. Bellati, rispondi ma senza prenderti querele. No, allora, no, allora, no, allora, cercherò di essere più neutra possibile, no ti prego fammi rispondere. Vai, vai. No, i medici ci sono. Le graduatorie sono pubblicate agli albi, le potete scaricare e vedere anche voi. Parle, sì, sì, no. Certo. Ok. No, no, ma li organizzano, il problema è che li organizzano non tutti gli anni, l'anno scorso per esempio è saltato, il problema è che quando tu li fai sovra provinciali, magari ne fai due o tre edizioni per tutta la regione. Ed è anche quello la testa, come diceva, che era il cittadino normale. La pensi per i dottori? Ma anche per noi che ci lavoriamo. No, ma guardi che... Ma per noi è un grosso problema. Ma per noi è un problema disastroso perché pensi che fino a pochi anni fa ci avevano inserito delle incompatibilità per il corso. Cioè dicevano che i corsisti di medicina generale, gli specializzanti, incompatibilità che nella legge, nella normativa nazionale non c'è, gliel'avevano inserita, hanno detto no, loro non possono partecipare. Il risultato è che c'erano cinque domande perché tutti i giovani medici erano tutti o specializzanti, gli medicina generale. E gli abbiamo detto scusate, avete inserito un ulteriore balzello dentro una normativa che non c'è? Allora noi non è che possiamo tutte le volte impugnare i bandi ogni mese? No, sì, lo facciamo. Cioè sì, lo facciamo però. Insomma, lì siamo riusciti a risolvere. Abbiamo tolto l'incompatibilità, buff, da cinque domande sono arrivate duecenti. Tu guardi. Perché il problema è che se non forma gli medici, noi che siamo a lavorare lì, cioè io vi faccio vedere il mio estratto ore, chiudevo ogni anno con due mille e cinquecento ore di guardia, su mille e seicento che in teoria dovresti fare col tempo pieno. Adesso provo a spiegarlo. Allora, facciamo un discorso molto molto basico, ok? Molto molto semplice così traete voi le conclusioni e non le dico io, perché è meglio, ok? Allora, un medico per fare il medico 118 ha un percorso di studi, ok? Un percorso di studi che prevede la laurea in medicina e chirurgia, ok? Che dura minimo sei anni, ok? Più può prendere la specializzazione che può durare altri cinque o sei anni, poi deve fare il corso 118 per avere l'abilitazione e poter esercitare. Quindi capite che dopo un percorso di formazione di questo genere qua andrà a lavorare per un stipendio che possa andare a tamponare tutti gli anni di lavoro che ha fatto, ok? E c'è tutti gli anni di studio che ha fatto. Un infermiere ha un percorso di studio molto più breve, con competenze, cultura professionale inferiore, perché è stato, il suo percorso di studio è predisposto per fare un determinato tipo di lavoro con determinate competenze e responsabilità. Quindi cosa succede? Che diverse responsabilità tra medico e infermiere, diverso è lo stipendio. Giusto? E quindi, se noi facciamo lavorare più infermieri al posto dei medici... Come qua? Sì, sì. Allora, io ne parlavo c'è un... Ah. E' un intervento. E' un intervento. Eh? Dice che io pago queste persone, se io le pago, io sono chiamata che mi fa prendere il mio libro di lavoro, che ti prendono, no? Certo. Il medico, il padre che prende un studio di 12 ore, 460 euro, il medico, il solito turno, poco, poco, senza, senza, senza. guardi allora su questo non le sappiamo rispondere quello che non lo sappiamo perché non sappiamo il concetto è questo guardi il medico prende lo stipendio della guardia medica esatto perché non prende lo stipendio dell'emergentista non prende lo stipendio dell'emergenza territoriale no 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 signora il problema è il ritorno nel problema del discorso contrattuale hanno il contratto della guardia medica o della medicina di famiglia è lì la differenza è un contratto diverso infatti immagino di sì perché infatti qui il problema è che il medico 118 dovrebbe avere la convenzione da graduatori a 118 il problema che avevano Fanano e Pieve Pelago è che fino a poco tempo fa in entrambi i posti c'erano contratti errati a Fanano siamo riusciti a regolarizzare la questione adesso con un progetto anche se temporaneo eccetera eccetera il personale che è lì è stato correttamente inquadrato nel contratto MET che è medico di emergenza territoriale centro di ciò qui da quello che ho capito ancora non è così prendevano un gettone e quindi di conseguenza ed è lì che va ma infatti ma è ovvio che questo questo infatti è il tema adesso sapete che c'è questo tema qui e quindi agite poi anche voi di conseguenza la questione è questa che il passaggio di consegna tra le competenze mediche e quelle infermieri cioè che stanno passando le competenze mediche verso l'infermiere è solo puramente una questione no c'è anche una visione politica dietro ma vabbè sì certo però su questo è meglio non parlare sono un altro paio di maniche insomma però l'importante è che sia chiaro nella popolazione cioè che sia chiaro che il medico l'infermiere 118 è un infermiere formato ok che affianca il medico 118 e è che anche il medico 118 senza il suo infermiere poco fa io mentre venivo su in macchina da sola qui prego ma sempre signora la nostra professione è fatta affiancando cioè con un infermiere di fianco è perché costa di meno ma infatti qua è questo il problema è questo il grosso problema qui è saltato proprio questo tema è il sistema cioè se voi prendete la delibera 44 è perché perché purtroppo queste sono state scelte organizzative o dell'azienda o della regione o della politica o non lo so secondo voi hanno fatto secondo noi adesso io la dico la dico un po' così secondo noi perché qui sopra era più difficile organizzare rispetto ad altri posti perché ovviamente qui organizzare significa cercare più persone significa cercare di mettere a posto contratti eccetera ma no abbiamo litigato l'ultima volta con la dottoressa Pellati abbiamo passato un'ora e mezza due ore in prefettura si è litigare in prefettura cioè il problema più o meno è lo stesso cioè la questione è questa le dicevo che venendo su da sola in macchina cioè ho detto cacchio ma chi viene a lavorare su bisogna che sia anche un po' espertino perché i patenti qua vanno stabilizzati bene ok ok quindi aspetta mi faccio finire il discorso quindi il medico d'emergenza 118 che dovrebbe accettare un incarico qui non è è meglio che non sia proprio di primo primissimo pelo e quindi di conseguenza è un medico che sa da pagare cioè ha capito è vero bisogna volerlo ho capito però bisogna che l'azienda abbia l'interesse di farlo cioè stiamo litigando con l'azienda per avere anche un contratto adeguato perché io sarei la prima a venire a lavorare qua tre giorni consecutivi con le mie pause e tutto tanti colleghi bellissimo cioè capito però ovviamente non è che mi sposto di 100 chilometri da casa per venire su e guadagnare uguale a lavorare a 10 minuti da casa quindi ci vuole anche una condizione contrattuale adeguata quindi ci deve essere una volontà dell'azienda di investire ha capito